Una pugnalata alle spalle. Così i comitati cittadini contrari alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze giudicano il sì del Ministero dei Trasporti al progetto di ENAC di Toscana Aeroporti. Il di Castero è guidato da Danilo Toninelli, esponente del Movimento 5 Stelle, che si è sempre dichiarato contrario all'opera. I comitati, quindi, erano convinti che una volta nella stanza dei Bottoni, i 5 Stelle fermassero il progetto, usando tutta la documentazione tecnica fornita nel corso degli anni, che dimostrerebbe le forzature procedurali, ambientali e urbanistiche attuate per poter realizzare la nuova pista. La stessa documentazione che poi è alla base del ricorso al TAR, di cui a breve conosceremo l'esito. Durissimo post su Facebook di Gianfranco Ciulli, presidente dell'Associazione Vast di Prato, e mente dei ricorsi al TAR contro il nuovo aeroporto. A corredo di un'intervista rilasciata da Luigi Di Maio, oltre tre anni fa, in cui l'attuale vice-premier diceva apertamente che questo progetto non si poteva fare, Ciulli scrive, ora tutti sanno com'è coerente il Movimento 5 Stelle, bastano le parole dell'attuale capo politico per rammentarci chi è veramente questa gente. Di contraddizione, seppur in modo soft, parla anche il sindaco Matteo Biffoni, firmatario del ricorso al TAR assieme ad altri cinque comuni della Piana e del Pratese, candidato per il PD alle amministrative del prossimo 26 maggio. Ho letto una dichiarazione, che non so se è vera, la leggo dalla stampa, da vostri colleghi, che dice che è un parere del Ministero e non del Ministro. Ci vuole però chiarezza, perché se no così si rischia di sentirsi un po' presi in giro su un'opera che, ripeto, impatta in maniera significativa e importante nei prossimi anni sul nostro territorio e sui territori dei comuni vicini. Al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello, il compito di difendere il partito dagli attacchi. Siamo l'unica forza politica che è sempre stata contro l'ampliamento dell'aeroporto e che ha firmato tutti i ricorsi al TAR, al contrario di Biffoni, che tra l'altro appartiene a un partito, il PD, che sostiene questo progetto. Anche il candidato del centro-destra, Daniele Spada, sposta l'attenzione sul PD. Se siamo arrivati a questo punto è perché qualcuno ha voluto fortemente questa soluzione sconsiderata che passa sulla testa dei pratesi come gran parte delle future rotte, qualcuno che appartiene al centro-sinistra.